Non era la tua prima vittoria in un festival così importante, o meglio, dopo un talent show hai vinto questo festival? Sì, che è un po' all'opposto, quindi mi ero detto che questo sarebbe stato il mio ultimo concorso per questo motivo, perché era all'opposto del talent televisivo, dello show business, quindi per me questa è una soddisfazione, ma diventa una doppia soddisfazione, spero di utilizzarla per fare quello che voglio fare da anni, ritagliarmi la mia nicchia e fare la mia musica. Da artista di strada vincitore di un concorso così importante, perché musicultura è un concorso molto importante, sei riusciuto moltissimo, immagino, dai tuoi inizi? Sì, sono cresciuto tanto, ma in realtà poi alla fine è quello che riesci a conservare, che ti salva, non è tanto quello che poi apprendi, anche quello che apprendi certamente, però la purezza che riesci a conservare dall'inizio, perché quando inizi a suonare sei molto meno contaminato in realtà, in questi anni, in questo ultimo anno e con questo concorso, dove un brano come Domenica, così spoglio, se vuoi, anche fragile nella sua struttura, perché è un brano che non deve essere disturbato, ecco allora questa è stata per me la vittoria. Oggi è 30 agosto e domenica, citiamo ironicamente il titolo del brano che ti ha portato alla vittoria, e quest'oggi hai dato, per citare un altro brano che ti ha portato a un'altra vittoria, hai dato il tuo ultimo esame per il momento. Per il momento. Progetti per il futuro? Ripeto, mi piacerebbe impostare un po' di tournée a teatro, quello mi piacerebbe, perché la formazione si presta, i ragazzi sono fantastici, ed è un ambiente nel quale io sento di dare il massimo, sento di essere al 100%. Quest'oggi, questa sera ha vinto la delicatezza, un brano molto delicato. Sì, la dinamica, ha vinto la dinamica sicuramente, questo è un brano che parte da zero e arriva a 100, però è molto facile andare sotto lo zero e sforare il 100, per questo la delicatezza del brano, la dinamica. I miei musicisti in questo sono stati fantastici, Enrico Dolcetto, Giacomo Serra, Manuel Goretti, sono stati impeccabili. Questo per certi versi ha un altro ragazzo, è stato ospite ieri sera, è Salvador Sobral, vincitore dell'Eurovision, e lui è una canzone molto delicata e è riuscito a vincere un orso, in cui in genere regna la potenza, la musica e i fuori d'artificio. Eh sì, perché la musica è tutto, sia potenza sia delicatezza, quindi a volte vince la potenza, a volte la delicatezza. Ti faccio tanti complimenti, tanti a Urian, ora per il tuo futuro e ti ringrazio. Grazie a voi.